bene cari amici buongiorno 10 luglio 2017 6 e mezza del mattino via nicolai fuori dall'ex manifattura oltre ad avere un cassonetto della plastica stracolmo la plastica si teoricamente dovrebbe essere raccolta tre volte a settimana ma praticamente non viene fatto anche l'altro è pieno qui si è formato una discarica a cielo aperto cioè qui si è formato un lordume non una discarica a cielo aperto un lordume pieno libertà qualcuno qui avrà sicuramente trafugato tra tra la spazzatura allora qui siamo sotto il contenitore della carta quindi l'abbigliamento o il qui questo apparecchio elettrico guardate che qui è drammatica la situazione allora la strada è quasi pulita perché le deiezioni più giù sono state tolte ma dove stanno proprio il burundi il burundi terzo mondo il burundi madonna ma io voglio il coraggio c'è qui lascio in libertà il venerdì sera e ogni lunedì mattina dove c'è per chi lo volesse c'è anche questo è il contenitore che va sulla macchina perché non ci facciamo mancare niente andate a fare in cura andate luridi siete dei luridi un cartello ma chiamino più ma certo non è scherzato ma stai scherzando tu dici che mettono le visioni come si chiamano controllo lasciate il buon viso no è bugia non so che sbagliare lì no no è bugia scusa la crescente scupa perché non mettono la città feste a te direi che la c'è io 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 la c'è sì ma stai scherzando l'ubertà è da sì ma l'ubertà è stazem è stazem è stazem la città non ma Roberta ma ti vedi col nio la mia nascarha è diventata sulla vicino sta chiuso come e cosìнал grazie C'è...